ciao adesso vi faccio vedere come si fa il caffè con la saiko phillips xmon basta pigiare il pontone e la macchina si sta per accendere adesso attendiamo qualche minutino tempo che gira il tutto vedrai quattro led che inizieranno a ruotare avvicinate vedi questa macchina praticamente ha i chicchi al di sopra della testa della macchina appena effettuerà il suo giro di riscaldamento la macchina è pronta all'uso allora ci sono due modalità per fare il caffè una con una sola tazza e la quantità è già stata impostata l'altra invece sceglierò la quantità che vorrò sul caffè che vorrò pigiando il caffè viene macinato e adesso non devo fare altro che accoggiare la tazzita sotto al dosatore di caffè nel frattempo che sono scendo ho la possibilità di fermarlo quando voglio io e il caffè è fatto ed è bello cremoso buon caffè a tutti